Sono un bambino, ma sono importante, sono protetto da molta gente, a casa la mamma, e con lei il papà, i noni, le zii, perché chi lo sa, forse a scuola sarò libero un po', ma che dico, anche lì sono un po', ci sono le maestre, la collaboratrice, insieme a loro la direttrice. Ad un lungo sonno in campanella, dobbiamo uscire come una catamela, andiamo ai cortile tutti.